Siamo allo Center Siamo in Cresidea e vi presento il capo che abbiamo realizzato quest'anno con l'imbottitura nuova PowerFeed di Polarpec. Il nostro capo si chiama PLEASE. Abbiamo utilizzato un tessuto molto molto elastico in modo che l'imbottitura sia valorizzata. Anche la parte interna è stata realizzata in fantasia per fare un capo molto più simpatico. Il pregio di questo capo è appunto la grandissima elasticità assecondata dall'imbottitura. Il fatto che l'imbottitura sia molto molto sottile, quindi abbiamo realizzato un capo molto slim da vedere, però nello stesso tempo molto caldo, che isola perfettamente il corpo dall'esterno, dalla temperatura esterna. Crea una barriera, grazie alla fibra cava in cui è stata realizzata, crea una barriera altissima termica, per cui abbiamo un capo veramente molto caldo ma molto leggero. L'altra cosa da tenere molto conto è il fatto che questa imbottitura è assolutamente 100% riciclata, per cui è eco-friendly, compatibile con l'ambiente e non si producono rifiuti. Il capo è molto molto tecnico perché presenta dei dettagli importanti, quali sono il guantino, che nel caso andiamo a fare delle escursioni con un clima molto freddo e dimentichiamo i guanti. Questo è ottimo perché può diventare guantinente grado oppure può proteggere almeno la parte frontale. Il cappuccio di questa giacca è fatto in modo molto ergonomico, per cui rimane bello aderente e non vi dà fastidio e la parte del collo è molto alta per proteggere ulteriormente in caso di freddo. Al prossimo episodio